Ho 26 anni, sono nata e vivo a Ferrara, ho studiato Bologna, lingua e letteratura straniere e al di là dei miei studi che mi sono piaciuti molto, una delle mie più grandi passioni e delle attività a cui mi sono dedicata è sempre stato il mondo del volontariato. Sono partita con Ibu Italia per un'esperienza di campo di lavoro e solidarietà in Romania, a Panciu, che è un piccolissimo paese nella contè della Francia, nel nord-est della Romania, a circa 180 km da Bucharest. Ho fatto questo campo di lavoro e di solidarietà che è durato tre settimane d'estate e il campo si svolgeva presso un centro educativo e ricreativo che si chiama Centro Pinocchio, dove le attività principali sono state di animazione e gioco con i bambini del centro. Sono partita forse un po' quasi per caso, un po' appunto è stato un dire perché no e soprattutto ho detto di sì perché era un campo di animazione, io avevo alle spalle tanti anni di animazione con bambini. La paura era che il modo che avevo di fare animazione, di stare con i bambini qua a Ferrara non fosse adatto, non fosse sufficiente per dei bambini che abitavano in questo paese di cui conoscevo un po' la realtà. In realtà non è stato così, per cui erano anche un po' ma neanche paure, pensieri un po' infondati. La nostra giornata tipo era suddivisa così, alla mattina facevamo animazione con i bambini, attività più varie che andavano da attività di alfabetizzazione con i bambini rumeni e rom che frequentano il centro, bambini che vanno dai 3-4 anni fino ai 17-18, quindi bambini e ragazzi in realtà. Il centro durante l'ora di pranzo chiudeva e al pomeriggio c'erano ancora altre attività. Le attività che abbiamo fatto come volontari che abbiamo condiviso con i bambini sono stati appunto dal fare saponette insieme per fare attività di educazione all'igiene, attività di alfabetizzazione, piccolo teatro, giocoleria. Di solito quando faccio un'esperienza particolare che mi tocca particolarmente cerco sempre di tornare a casa con, io le chiamo, tre fotografie, tre scatti di momenti che mi hanno colpito. La prima, i sorrisi dei bambini. Facevi un giro per Pancio che è un paesino molto piccolo, abbastanza degradato, vedevi fuori questi bambini che già a 3-4 anni tu eri fuori a fare la spesa e loro si bevevano una birra, fumavano, chiedevano l'elemosina e sicuramente sono immagini di bambini a cui non siamo abituati. E il fatto di vederli al centro, sorridere, giocare, forse lasciarsi alle spalle anche le difficoltà che hanno nelle loro famiglie sicuramente mi ha bucato il cuore. Un'altra fotografia sono gli altri volontari con cui ho condiviso questa esperienza e l'ultima fotografia sono dei trampoli o qualsiasi attrezzo di giocoleria che anche solo se spunta fuori un momento è il motore che accende un po' la giornata ai bambini. Questa esperienza mi ha sicuramente aperto un nuovo mondo, ha creato dei legami anche affettivi con persone italiane ma soprattutto con i bambini e i ragazzi di Pancio. Un rapporto che è durato poi nel tempo attraverso altre esperienze che ho potuto fare con Ubo Italia. Cosa credo di aver dato? Non lo so, spero di aver portato ogni tanto un sorriso, un momento di spensieratezza a questi bambini, di stacco forse dall'infanzia un po' difficile che vivono tutti i giorni. È difficile dire qualcosa che motivi un ragazzo o una ragazza a partire. Credo che ne valga la pena che nel momento in cui uno si trova davanti a proposte del genere, devo sempre partire chiedendosi perché no, perché non partire, perché non provare e perché non mettersi in gioco nel mondo del volontariato. Grazie a tutti.